come potete vedere io respiro ancora secondo le regole del gas l'ossigeno entra l'anidride carbonica esce il professor parisi sta sistemando una sedia però non siamo ad arco ma siamo nella proprietà di mia moglie siamo io sono ospite a malè in casa redi l'argomento che dobbiamo trattare è un argomento del traffico traffico che naturalmente del basso sarca ha raggiunto dei livelli impossibili ma questa storia del traffico non è una storia di oggi è una vecchia storia una storia che noi ci trasciniamo da quando si voleva fare il collegamento tra mori e arco fatto dall'autostrada quando allora era direttore gianni caproni volevano fare il collegamento dell'autostrada ma ma c'è stato un grande ma perché c'è stata una sollevazione allora da parte dei sindacati perché hanno detto che insomma bisogna pagare il ticket pagare il ticket non era possibile che era una vergogna eccetera 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 morale della favola che il progetto è stato accantonato e mentre da altre parti del trentino si facevano le gallerie mezzo lombardo madonna di campiglio e pergine in segna noi siamo sempre rimasti dietro il progetto che c'era e che era stato portato avanti dall'architetto gianni canzà è che dietro torbole doveva esserci una galleria di collegamento e che quindi tutta la strada che passa nel centro di torbole sarebbe stata a traffico limitato e quindi sarebbe stata una cosa meravigliosa ma anche lì le solite storie il collegamento con la galleria da mori in giù anche lì la solita storia ci sono stati una serie il problema però è venuto a presentarsi adesso col punto nascite perché tutti sapete che io sono contrario a tutti questi ospedali nel trentino inutile che ve la rispieghi perché l'ho già spiegato in una puntata perché io sono per l'ospedale santa chiara 24 ore su 24 una chirurgia unica è giù di questo passo però però chiudere il punto nascite di arco come l'hanno chiuso non mi sembra una grande operazione dal nuovo direttore che paghiamo 320 mila euro più il premio di produzione di fine anno eccetera eccetera che sono andati a prenderlo del nome ne sa dove perché se ci mettevano noi altri ben pensanti a dirigere avremmo detto prima di chiudere il punto nascite come è il traffico per andare a roveretto ci si impiega 5 minuti 10 minuti 20 minuti o ore ore si parla di ore ma non sono ballenos questa è la sacrosanta verità immaginate immaginate che ci sia un problema di temporale o qualche cosa che succeda qualche cosa in autostrada c'è in autostrada sulla su questa strada intasata di traffico lasciamo perdere una delle cose che va dette però che raramente raramente a nago quando ci sono questi ingorghi si vede la polizia urbana locale i carabinieri o polizia dovrebbero essere talmente impegnati in quella zona lì di sabato e di domenica che io se fossi il comandante della polizia della strada comandante carabiniero comandante della polizia locale farei un intervento massiccio nei vari punti centrali per cercare di organizzare il traffico in maniera diversa ripeto noi non possiamo andare avanti con un traffico del genere mi direte il rimedio non lo so un rimedio ci sarebbe ciamar in bianchino e dargli una mande bianco a tutti questi politici che ci hanno amministrato finora perché una mande bianco nel minimo che si può fare cosa vi posso dire oltre posso dire che non è che con un colpo di vacchetta magica si fa la galleria ma la galleria è ancora in programma e deve appaltare non so certo che non si può pensare che ci sia una coda da malcesine fino a morire senza incidenti notate bene che non è che questi ingorghi avvengono perché successo l'incidente c'è stato qualche cosa sono cose che avvengono per il traffico perché quando si arriva a nago c'è il traffico che arriva da arco il traffico che arriva c'è un incrocio ci sono alle volte addirittura il semaforo acceso addirittura il semaforo acceso dopodiché io sono qui in campagna rilassato e tutti mi dicono che in queste trasmissioni sono poco propositivo e molto critico credo oggi di essere propositivo e non critico grazie a tutti grazie a tutti